Presidente Gigliotti, per il terzo anno consecutivo a Montestella per ancora una volta esplorare e guardare queste bellissime orchidee? Sì, è il terzo anno di Erbe Flores, Sax e Astra, che è un programma che condividiamo come condotto a Slow Food Soverato Versante Ionico e anche a Slow Food Canabria con l'amministrazione comunale di Pazzano, che è sempre attento ovviamente al territorio. Quest'anno, come al solito, abbiamo fatto il sabato un convegno riuscitissimo, con tante esperienze, con tanti spunti per il futuro. E oggi riprendiamo con gli esperti, con Carmine Lupia, che è il nostro affezionato etnobotanico, e con il dottore Valenti, questa passeggiata sui sentieri delle orchidee e alle scoperte delle erbe spontanee, che saranno oggetto del laboratorio che faremo dopo. Però c'è una novità in più quest'anno. Abbiamo, come condotta Slow Food, insieme ai cittadini di Pazzano e anche al sindaco, dato vita alla comunità di Pazzano per l'ecologia integrale. E l'abbiamo presentato proprio l'altro ieri a Saracena. È una comunità che si propone, nell'ambito di tre anni, una serie di obiettivi. Intanto di portare avanti questa iniziativa, poi di creare dei laboratori permanenti, anche un orto botanico. E poi un obiettivo ancora più alto è quello di creare una cucina popolare. Quindi dare vita a una trattoria, a un modo di far rivivere i sapori che noi vorremmo si ripigliassero, proprio a partire dalle erbe, per farne un momento di convivialità per Pazzano, ma per tutto il territorio. Continua l'iniziativa nel comune di Pazzano, tesa a valorizzare le tradizioni del territorio, è incentrata sulle miniere, sulla tradizione mineraria e sulla presenza del santuario dell'eromo di Monte Stelle. Siamo alla terza edizione, si è aggiunta rispetto alle presenze precedenti una massiccia presenza dell'Istituto Nazionale di Urbanistica Calabrese, guidato dal professore Domenico Passarelli, che ne è il presidente. Pazzano si avvia quindi a consolidare un percorso basato sulle miniere, con l'approvazione del cosiddetto itinerario minerario che vede coinvolte Stilo, Bivongi, Pazzano e Mongiana e che per quanto riguarda Pazzano prevederà la messa in valore dell'antica fonderia borbonica di Pazzano. Nel contempo è stato dato un congruo finanziamento per consentire l'accesso ai risabili e agli anziani al santuario di Monte Stelle e questo sarà un problema di grande valore, sia perché sentire un uso del santuario a tutti, ma anche perché fare questo comporta dei problemi logistici, dei problemi tecnici e delle soluzioni architettoniche di grande valore. In questo c'è stata garantita l'assistenza dell'INU anche nazionale nella persona del professore Igino Rossi, che è il capo della commissione accessibilità dell'INU nazionale. C'è stata ieri una presenza qualificata e partecipata di Slow Food, di Biologi Senza Frontiere, di Italia Nostra e delle due università, dell'Università della Calabria di Rende e dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Dottor Lupi, ancora un appuntamento con queste orchidee e queste piante qui a Monte Stelle? Sì, quest'anno è un appuntamento importante anche perché abbiamo azzeccato il periodo giusto dove ci sono un po' le fioriture di tutte queste specie anche di interesse etno-botanico. C'è una biodiversità molto ricca e abbiamo trovato sia piante di interesse alimentare, di interesse medicinale e anche di interesse storico-culturale. Quindi una situazione molto molto variegata che bisogna valorizzare e fare sempre di più affinché venga conosciuta. La creazione di un orto botanico? Benvengano gli orti botanici, più ce ne sono e meglio è perché è una cultura che bisogna diffondere, è una cultura che negli ultimi anni purtroppo ha subito delle regressioni. e quindi dobbiamo fare di tutto per recuperarle e cercare anche di conoscerle e farle riconoscere queste piante anche alle nuove generazioni perché è un patrimonio, come dicevo, di interesse alimentare, medicinale e poi anche storico-culturale. Con questa iniziativa l'eremo santuario di Santa Maria della Stella si caratterizza ancora di più come luogo di spiritualità ma anche come luogo per contemplare la natura, ma anche come luogo culturale. come luogo propositivo per sviluppare una teoria che ormai comincia a prendere piede che dice che i piccoli borghi saranno il futuro anche del mondo perché i piccoli borghi ancora continuano a far gustare la bellezza della vita, la bellezza del creato, la bellezza delle relazioni umane.